Per gli ultimi arrivati, come dicevo, c'è una sala disponibile adiacente, quindi per chi non trova da sedere può accomodarsi, tutto in videocollegamento, per cui potete sedervi di là. Allora incominciamo, buonasera a tutti, innanzitutto grazie di aver accettato l'invito a questa presentazione del libro, Edito Rizzoli, la bellezza disarmata, di Don Cuglian Carron. In modo particolare saluto le autorità civili e religiose qui presenti. L'incontro è stato promosso dal Movimento di Comunione e Liberazione in collaborazione con l'Associazione Culturale Antonio Rosmini. Sono felice ora di introdurre gli ospiti di questa sera. Gadi Luzzato, professore alla Boston University e si occupa prevalentemente di storia ebraica. Vail Farouk, professore di lingua araba all'American University del Cairo e all'Università Cattolica di Milano. E Don Cuglian Carron, autore del libro e presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. Il volume che presentiamo questa sera propone gli elementi essenziali della riflessione svolta da Don Cuglian Carron a partire dal 2005, anno della sua elezione a presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, avvenuta dopo la scomparsa del fondatore, il servo di Dio Don Luigi Giussani. Nel 2004 Don Giussani lo ha chiamato dalla Spagna per condividere con lui la responsabilità di guida al Movimento. Don Giussani ha sempre detto che le circostanze per cui Dio ci fa passare sono fattore essenziale e non secondario della nostra vocazione, della missione a cui egli chiama ciascun uomo. Proprio per questo Don Carron non si è mai sottratto in questi anni dal lavoro di un tentativo di giudizio per illuminare il contesto in cui siamo immersi. Egli lo ha offerto a tutti, invitandoci incessantemente a verificare la portata storica e culturale della fede, di fronte alle molteplici sfide che stiamo attraversando. La bellezza disarmata offre una diagnosi profonda e sfaccettata della situazione presente e costituisce una proposta originale e audace per recuperare la trama e il fascino della realtà. Don Carron esplora le ragioni di un diffuso torpore sociale e personale che sembra consegnare l'uomo a una incapacità di relazione, sia nello spazio privato sia in quello pubblico. La rottura dei legami affettivi e la disgregazione sociale avrebbero radice in una frattura interna all'umano, in quello che gli definisce il crollo delle evidenze. Per dirla con le parole della filosofa spagnola a lui molto cara, Maria Zambrano, si tratta di una crisi di rapporto con la realtà. In che cosa consiste? E qui cito dalla bellissima prefazione di Javier Prades. È una sordida di perdita di fiducia verso la propria esperienza di vita. Essa si scopre nella difficoltà a riconoscere e abbracciare il reale così come ci appare, cioè carico di attrattiva. Quante volte uno si sente soffocare nella quotidianità, senza la minima idea di come liberarsi, aspettando solo di cambiare le circostanze. Alla fine ci si trova bloccati, annelando una libertà che non arriva mai. Il libro affronta anche le problematiche che l'Europa sta attraversando, richiamando alla memoria l'impeto ideale che l'ha generata, in modo impensabile dopo le due guerre mondiali che l'avevano lacerata. Lo sviluppo attuale, tuttavia, è segnato da risorgere dei conflitti interni e verso l'esterno, frutto di un vuoto ideale che si trasforma in odio, ostilità o, più semplicemente, in una distanza, pensiamo all'insorgere dei fenomeni di fondamentalismo in casa o alle scomposte reazioni di fronte all'impressionante fenomeno migratorio. Ma questa situazione, per Don Caron, sulla scelta di Papa Francesco, è un'occasione affascinante, perché citando la Arendt, ogni crisi ci costringe a tornare alle domande, esige da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto. Si tratta quindi di un invito a prendere coscienza del bisogno e delle domande brucianti che ci accomunano tutti, in quanto uomini. Caron propone dunque un nuovo inizio, e questo mi sembra una buona notizia. Egli è ottimista, sia sul piano personale e sociale. L'aspetto forse più interessante è che tale ottimismo non muove da un progetto, da un'ideologia o da un programma politico, ma da un'attesa che nella realtà ci sia un punto di ripresa. In altre parole, che nella quotidianità si affacci un'attrattiva capace di catturare l'uomo in forza della sua bellezza. Questa attrattiva, proprio ciò che l'uomo fa fatica a trovare, non può che proporsi in maniera disarmata, ossia come un'offerta libera, che l'altro può accettare o rifiutare. Il compito che attende ciascuno nel pensiero di Caron è quello dunque di coltivare un'educazione che innanzitutto non addormenti quella attesa, quella speranza, che per l'autore non può essere spenta, e che allo stesso tempo offre una proposta per vivere e affrontare tutto, attraverso l'incontro con l'altro. L'incontro può darsi solo nella libertà reciproca. Come si è tolineato dal testo, riportato proprio sulla copertina del libro, non c'è altro accesso alla verità se non attraverso la libertà. La storia è lo spazio del dialogo nella libertà, che non vuol dire spazio vuoto, deserto di proposte, perché del nulla non si vive. Nessuno può stare in piedi, avere un rapporto costruttivo con la realtà, senza qualcosa per cui valga la pena vivere. L'incontro di questa sera nasce proprio dal desiderio di condividere con tutti questo cammino, di entrare senza timore in un dialogo a tutto campo, nello spazio pubblico, offrendo il contributo di un'esperienza di vita, a chiunque sia alla ricerca di ragioni adeguate per vivere e costruire spazi di libertà e di convivenza in una società plurale. La proposta di Don Caron quindi si rivolge a tutti, proprio perché fa appello alla trama dell'esperienza umana, nella sua essenzialità e nella sua ricchezza. Ecco perché abbiamo tenuto moltissimo a coinvolgere chi viene da tradizioni differenti, ugualmente persuase di avere qualcosa di offrire all'uomo di ogni tempo. Abbiamo pensato che una maniera utile per prendere sul serio la proposta di Caron fosse invitare a paragonarvisi chi ha sviluppato una coscienza critica della propria appartenenza e della propria tradizione. E Gade e Ivaile sono due uomini profondamente radicati sia all'interno della loro storia nella quale sono nati, sia nel momento storico che ci accomuna e per questo li ringraziamo di cuore per essere qui, con noi. Desideriamo iniziare il nostro incontro con un brano musicale, composto ed eseguito dal maestro e amico Marcello Sesena, compositore brasiliano che ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali. Marcello, già da qualche anno, è in tour in Italia e nella primavera del 2014 ha visitato la Cappella degli Scrovegni ed è rimasto così colpito dalla bellezza degli affreschi che ha desiderato poterla conoscere di più. Ha deciso quindi di scrivere un concerto che racconti in musica la sua esperienza di bellezza, di fronte agli affreschi di Giotto, un'opera tuttora in fase di realizzazione promossa insieme all'Associazione Culturale Losmini e che sarà presentata completa a Padova il 10 giugno di quest'anno. Stasera Marcello ci propone in anteprima assoluta Il bacio di Giuda. Abbiamo infatti pensato che questo pezzo aiuta ad entrare nel tema della serata, la bellezza è disarmata appunto. Possiamo proiettare l'immagine. Scrive Ungaretti a proposita di questa meravigliosa scena giottesca. Non dimenticherò mai quelle braccia del Cristo degli scrovegni che si allargano a stringersi sul petto, un Giuda enorme come un monte. E che importa che Giuda stia per tradire, supera tutto, la gioia di quel Cristo giottesco che finalmente ritrova nella consistenza corporale dell'Apostolo traditore la nostra malinconia. E' un Cristo di una bontà ineguagliabile, tale che nemmeno la più tetra ingratitudine potrebbe per contrasto darne la misura. Una bellezza che si pone e che non ha altre ami di convincimento che non la sua stessa bellezza. Ascoltiamo ora il brano. 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 impatto di Gadi Luzzato e Val Farouk con il volume. In altre parole abbiamo chiesto a ciascuno quali reazioni interrogative abbia suscitato il loro libro di Carronne. Il tema di questa sera è comunque in un certo senso nato da essi e abbiamo in ultima analisi offerto loro la possibilità di confrontare le loro impressioni con Don Carronne, da cui la proposta proviene. Siamo dunque curiosi di conoscere da Gadi Luzzato quale sia il suo giudizio di questo percorso, proprio partire dalle sue reazioni al volume. In particolare vorremmo rivolgergli direttamente e personalmente una domanda che Don Carronne stesso si pone. Quando egli si chiede da dove ripartire, o meglio dove si trovi l'energia che mette l'uomo e la società in grado di ricominciare e ricostruire, non ha esitazioni nel menzionare il popolo ebraico. cito, come può Israele avere una convinzione così certa della positività della realtà dopo che tutta la sua storia è stata attraversata da tribolazioni e travagli di ogni genere? Che senso ha ripetersi ancora oggi in altri termini e Dio vide che era cosa buona, molto buona nell'espressione della Genesi? Che provocazione desta questo giudizio di bontà sulla realtà in Gadi? Grazie. Grazie. Grazie di avermi invitato a un confronto finalmente sulle questioni concrete che attraversano la vita di ognuno di noi e non soltanto su quegli usuali incontri in cui, come dicevamo prima cena, veniamo invitati a fare la parte dell'ebreo e a fare la parte del musulmano e a fare la parte del cristiano in un dialogo che molto spesso non porta a nulla. Sono le questioni della contemporaneità attorno alla quale ci dobbiamo interrogare e che sono ben presenti nel libro di Caron e nelle questioni che mi sono state poste. Allora io mi sono permesso di fare un piccolo powerpoint così esplicativo per aiutarci a seguire meglio il percorso nel quale mi volevo rapidamente inoltrare. Allora le due questioni ce le ha espresse Samira adesso all'inizio per cui le salterei e non le riproporrei. L'unica cosa da dire è forse da concentrarsi sulla questione della positività che vedrete e ritroveremo alla fine e che in qualche modo attraversa tutta la riflessione di Caron e del libro di Caron. Come si pone Israele, il popolo ebraico, di fronte alla questione della positività, di fronte alla sua storia così carica di tribolazioni e di travagli. Allora se potete cambiare slide, grazie. La prima questione che si pone è legata a una considerazione fondamentale secondo me e cioè siamo proprio sicuri che sia possibile interpretare la storia di Israele come storia di persecuzioni e di tribolazioni. Nella storiografia, la storiografia su Israele è una storiografia che per tanti secoli, per millenni, si è concentrata sulla storia dell'Israele biblico. Ma poi negli ultimi due secoli c'è stata una crescita di riflessione sulla presenza storica dell'ebreo nella storia, nella storia del mondo. E questa riflessione spesso ha sottolineato gli elementi di persecuzione, gli elementi di esclusione, la ghettizzazione e quant'altro. Però qualche tempo fa, qualche decina di anni fa, è emersa la figura di un grande storico sociale, Salo Wittmeier Baron, il quale ha accusato in toto la storiografia che si occupava della questione, parlando di questa storiografia come di storiografia lacrimosa. Un'idea sbagliata del modo di proporre la presenza degli ebrei nella continuità della storia del mondo. Non è possibile, secondo il suo giudizio, che alcun popolo possa sopravvivere soltanto vivendo una sequela di tribolazioni e di persecuzioni. E lui proponeva invece, da storico sociale, l'idea della storia ebraica come naturalmente caratterizzata anche da momenti di tensione, di espulsioni, di massacri, ma quale popolo non ha attraversato questi tipi di eventi? E la contrapponeva a una storia di incontri. Io dico sempre, faccio l'esempio ai miei studenti sulla questione del ghetto di Padova, il ghetto ebraico di Padova, due secoli di vita degli ebrei in ghetto a Padova, con una legislazione molto rigida. Eppure gli ebrei, che sono un popolo nomade, un popolo abituato a muoversi, gli ebrei padovani hanno continuato e hanno scelto di vivere qua, di vivere in questa città. Allora questa decisione di mantenere una convivenza, una quotidianità a Padova, forse ci trasmette da semplici osservatori della storia, non bisogna neanche tanto andare a studiare negli archivi, ci suggerisce che in realtà erano molto maggiori e molto più significativi i momenti di incontro con la società padovana e di contributo che gli ebrei potevano dare alla società padovana e che la società padovana non ebraica poteva dare alla vita ebraica padovana, che non i momenti di tensione che pure ci furono, che sono sottolineati anche da momenti di ritualità e cui adesso non entro, ma che danno uno, come dire, ci offrono uno sguardo diverso anche su esempi che nella storia, come l'epopea del ghetto diciamo, sono presentati come un qualche cosa di negativo. Magari cominciamo a interpretare quelle porte un po' chiuse, un po' aperte a seconda delle ore del giorno e della notte, non come uno strumento di chiusura ma come uno strumento di passaggio o qualche cosa attraverso cui si attraversava per conoscersi, per frequentarsi. Potremmo continuare molto a parlare del ghetto di padova ma andiamo oltre. Quindi io penso che per provare a rispondere alla domanda che viene posta su come Israele ha potuto sopravvivere mantenendo questa visione positiva del suo essere nella storia dobbiamo ragionare un pochino sull'idea del concetto di tempo nella tradizione ebraica. Un concetto di tempo che è ambivalente nel senso che comprende due concezioni abbastanza diverse. Chiedo di passare alla prossima slide. Sono pessimo nel fare i disegni per cui mi perdonerete, ho utilizzato qua e là delle cose. E quella cosa forse, sì, è una freccia, bene, perfetto. Allora io comincerei cercando di ragionare un attimo sull'idea di tempo lineare nella tradizione ebraica. Un tempo lineare che parte da un punto ben preciso, non entro nella tradizione mistica che fa partire forse che ragiona anche su quello che c'era prima della genesi, della creazione del mondo, ma diciamo parte da un punto ben preciso che è la creazione del mondo per direzionarsi non in maniera in linea retta, ma a onde di positività e negatività che fanno parte della vita di tutti noi, momenti tragici a cui seguono momenti positivi nella storia umana per direzionarsi verso un infinito che sarà, quando deciderà il nostro Signore, l'avvento dell'era messianica. Su questa linea del tempo, una linea abbastanza comprensibile immagino, si colloca l'uomo, la prossima slide, prego, si colloca l'uomo, si colloca l'uomo che si pone in viaggio, cammina e la tradizione ebraica accompagna questo cammino, chiama questo cammino con un nome, Alaha, che significa proprio cammino e che è la legge. La tradizione ebraica chiama il cammino dell'uomo nella storia, nella presente che si ripete, cammino, cioè l'uomo abita il tempo camminando e trasformando quella che è il centro della struttura della tradizione ebraica, cioè l'organizzazione della società sul piano giuridico con il rispetto di tutta una serie di normative anche molto complesse, lo fa per aiutare l'uomo a abitare questo tempo che è un tempo che gli è stato donato da Dio. È un'idea che radica l'uomo nella realtà che sta vivendo e che noi possiamo ritrovare in molti luoghi della tradizione ebraica. prossima slide. E che forse è ben rappresentato da una midrash, una storia contenuta nel testo giuridico che è il Talmud, una storia che cerca di spiegare in che modo l'ebreo abita quel tempo. Naturalmente quella linea del tempo a un certo punto verrà spezzata, è un punto sul quale l'ebreo non può intervenire perché sarà Dio a decidere quando arriverà il Messia. E però la letteratura rabbinica fa i conti con questa idea e propone un'interpretazione che è un'interpretazione di nuovo molto legata all'abitare dell'ebreo nel tempo. Si parla di Yohanan ben Zakai, che è una figura come tante, è una figura storica, che è sostanzialmente quel personaggio che è riuscito durante l'assedio romano a Gerusalemme a farsi trasportare fuori nascosto in una bara come se fosse il suo funerale perché aveva deciso che ormai per mantenere viva la tradizione ebraica non era più necessario, non si poteva più neanche sperare di difendere il Tempio di Gerusalemme, ma bisognava continuare una tradizione nuova studiando, lavorando sulle fonti e studiando e questo si poteva fare soltanto sopravvivendo, non sacrificandosi a quel fondamentalismo che emerge e che emergeva anche a quei tempi. Quindi contrastando quella parte fondamentalista del popolo ebraico che c'era e che combatteva fino alla morte, decide di salvare se stesso e salvare i suoi studenti per andare a farsi, a installare una nuova accademia di studi. Yohanan ben Zakai viene preso come esempio in questo Midrash e si racconta che lui raccontava questa storia. Se fossi sul punto tu di piantare un albero come si deve fare, si è tenuti a fare durante il capodanno degli alberi che è uno dei capodanni della tradizione ebraica, quindi la legge ebraica che ti dice devi piantare quell'albero stai facendo un atto materiale che Dio ti ha indicato che devi fare in quel momento e ti vengono a dire ecco è arrivato il Messia, è finito il tempo, è finito il tuo tempo presente, il futuro non dipende più da te, tu prima devi piantare l'albero, devi fare il tuo dovere fino in fondo come uomo e poi vai ad accoglierlo e questo io credo che sia un esempio importante di come la tradizione ebraica interpreta l'esecuzione della legge come senso di rispetto per quello che ti è stato dato e che tu devi continuare a dare finché ti viene richiesto. La prossima slide. Accanto al tempo lineare, scusate ma questa l'ho fatta a mano ed è orrenda, sarebbe l'aggiunta di una piccola spirale. C'è una visione che è legata al tempo ciclico che io ho chiamato direzionato perché comunque è sempre nella direzione della speranza dell'avvento del Messia, non è un ciclo statico come quello dell'attività contadina legata continuamente alla terra, alla vita della terra e che sembra ripetersi in eterno senza soluzione di continuità. Qui è qualche cosa che comunque accompagna l'esperienza del tempo lineare nel tempo ma che ha a che fare anche molto con la quotidianità ebraica. Ci sono tanti cicli nella tradizione ebraica, c'è il ciclo settimanale che separa fortemente la collettività ebraica dalle altre collettività. Gli ebrei hanno il sabato, il resto delle tradizioni hanno la domenica, il venerdì o altri tipi di cicli. Ci sono poi le festività ebraiche annuali, poi c'è il ciclo della vita che segue tutto quello che è la tradizione ebraica. Sul tempo secondo me andrebbe fatta una riflessione forte, naturalmente è già chiaro da quello che ho detto che la positività insita nella tradizione ebraica è proprio legata a quest'idea del tempo progressivo, diciamo così, c'è da dire nella direzione di un incontro di dialogo con l'altro che il tempo, il modo degli ebrei di vivere il tempo è anche stato nella storia e a volte lo è anche nel presente, un modo che separa in certi momenti più che unire. nel senso che penso che tutte le tradizioni, anche la tradizione ebraica, ha il suo modo di abitare il tempo. Va rispettato, va interpretato, va proposto per quello che è. Possiamo passare alla prossima slide, per ritornare ancora una volta alla questione iniziale, quindi come può Israele avere una convinzione così certa della positività della realtà. Quindi nella tradizione ebraica l'essere umano, questo è importante, fondamentale direi, è stato creato per il mondo, non è il mondo che è stato creato per l'essere umano, ma è l'essere umano che è stato creato dopo che è stato creato il mondo, è stato creato per servire il mondo. Questo ha un significato fondamentale anche dal punto di vista, chiamiamolo così, ecologico, sia dell'ecologia umana che dell'atteggiamento che l'uomo ha nei confronti del mondo. L'azione dell'essere umano nel mondo fa parte del suo dovere ed è fondamento della sua etica. E questo dà un senso, dà un significato forte al perché tanta tradizione ebraica sia rimasta legata al rispetto delle norme. Nel momento in cui si interpretano queste norme come norme provenienti direttamente da Dio, che è il creatore, il rispetto di queste norme diventa, come dire, l'imperativo etico per cui l'uomo, l'ebreo in questo caso, si impegna a servire questo mondo proprio attraverso il rispetto di queste che poi diventano anche tradizioni di vario tipo. E la prospettiva, ripensando alla curva del tempo lineare, è l'idea che il tempo, che il buono, il bene, alla fine prevale sempre. Negli ultimi anni è emersa questo concetto, secondo me fondamentale, di resilienza, preso in prestito dall'ingegneria, credo. E' un testo molto utilizzato in psicologia, ma è un termine che dà l'idea del modo che il mondo ebraico ha nella sua positività di vivere l'esperienza nel tempo. Passiamo alla prossima slide, perché forse questo è l'elemento più importante. Quel tempo, quel modo di vivere il tempo, è il tempo vissuto da Gesù. Gesù ha vissuto il tempo in questa prospettiva. Lui aveva una visione ebraica del tempo, non poteva avere altre. Era nato in quella tradizione e aveva quella prospettiva. E se vogliamo, se vi permetto di interpretare la crocefissione da una prospettiva ebraica, la crocefissione è interpretabile come uno ristabilimento del tempo nel suo ciclo positivo. Nel momento in cui Gesù denunciava una situazione, un ciclo basso, una situazione particolarmente drammatica in cui si trovava a vivere in quel momento lui, il popolo ebraico e quant'altro, la sua, il suo sacrificio, la crocefissione è un tentativo estremo di ristabilire, di cambiare la direzione della linea del tempo in una fase ascendente e non discendente. C'è un esempio nella tradizione ebraica molto importante, secondo me molto pregnante, che è quello legato alla festività di Pesach e che dà l'idea di Pesach, cioè della Pasqua ebraica, dà l'idea di come questo tipo di resilienza, questo tipo di pensiero positivo ebraico si è sopravvissuto nei secoli. La Pasqua ebraica è una festa di liberazione, si celebra una cena, si celebra in cui si racconta, si istruiscono i bambini sul concetto di libertà e di liberazione, utilizzando la storia della liberazione del popolo ebraico da parte di Dio dall'Egitto e dalla schiavitù d'Egitto. E questa festa viene celebrata e viene festeggiata con gioia anche nelle situazioni più tragiche, più tristi, più difficili. Parliamo del ghetto, della situazione del ghetto dell'epoca storica, ma parliamo anche dei ghetti della Shoah, dei ghetti durante lo sterminio. Quella festa non può essere celebrata che gioendo, che sperando, e lo si fa in qualsiasi momento del ciclo che ho cercato in maniera abbastanza maldestra di disegnare, e perdonatemi ancora per questa cosa. Bene, sulla base di queste considerazioni che ho cercato di avanzare per provare a rispondere alle domande, alle questioni che mi sono state poste, mi resta che dire qualche cosa a proposito del libro, degli spunti importanti, sono tanti gli spunti che ci propone Caron nel suo libro. A me ne interessano due, uno di questi lo vorrei esporre in forma non provocatoria, critica, chiedere, e sono curioso e interessato ad ascoltare poi le parole di Caron sull'argomento. La prima è una questione secondo me fondamentale. Lui dedica un intero capitoletto importante alla questione dell'educazione, citando Papa Bergoglio, è un testo che vale la pena di essere letto, scusatemi, ma è veramente importante perché è un testo al quale io aderisco in toto e che ci parla proprio di positività. L'educazione, educare, è il compito fondamentale che ci troviamo di fronte come uomini e donne che abitano nel tempo presente, ma educare non in maniera vuota, ma mettendo in gioco noi stessi. E giustamente Caron sottolinea, citando Papa Francesco, questa frase, educare, virgolette, è di per sé un atto di speranza. Cari educatori, vi auguro che l'inquietudine, immagine del desiderio che muove tutta l'esistenza dell'uomo, apre il vostro cuore e vi indirizzi verso la speranza che non tradisce e che come educatori vi trasformiate in testimoni autentici vicini nella prossimità a tutti. E ancora, frase ancora più rivelatrice, i ragazzi capiscono, hanno fiuto e sono attratti dai professori che hanno un pensiero aperto, incompiuto, che cercano di più e così contagiano questo atteggiamento agli studenti. Il comunicare incertezza, in qualche modo, fa parte anche di questa tradizione ebraica. Credo che non a caso Caron abbia citato questo testo, che la questione dell'educazione è una questione che ha attraversato la storia ebraica molto approfonditamente, l'attraversa ancora adesso, ed è fondamentale. La seconda, però, partendo da questo spunto, ho come l'impressione che questo atteggiamento fondamentalista, chiamiamolo così, di speranza, perché potremmo dare alla parola fondamentalista anche un aspetto positivo, un accento positivo, sia un pochino in contraddizione con un atteggiamento che attraversa un po' tutto il libro e che è una premessa a tanti dei ragionamenti che sono insiti in questo libro. E cioè molto spesso nel libro si parte da una valutazione del tempo attuale come di un tempo in cui prevalgano il nichilismo, la difficoltà, il disorientamento. Ora, intendiamoci, certo che ci sono, e ci sono nelle nuove generazioni e anche nei più anziani che vedono con preoccupazione agli sviluppi della storia contemporanea. Però a me sembra che questa situazione, questa sensazione di vivere un momento di crisi sia in realtà una sensazione che è stata vissuta da molti, in molti periodi della storia. Ne parlava San Paolo, per esempio, e lo viveva con grande emergenza questo tipo di situazione. Ma insomma, un po' in tutta la storia, non è una novità, non mi sembra una novità, e invece viene presentata come un'importante novità che ho come l'impressione che rischi di, se presa come premessa fondamentale, di svalutare poi il ragionamento che emerge, che invece va a toccare dei temi che sono veramente i temi sui quali tutti noi, credo, dovremmo confrontarci. Io mi fermerei qui, ho parlato troppo, grazie. Allora, lasceremo alla fine Don Cugliano a rispondere anche a questa domanda. Ora invece volevo passare la parola a Vail Farouk. Vail, Caron nel libro concepisce lo spazio pubblico come uno spazio di dialogo nella libertà. Tu proprio in un'intervista dell'altro giorno sul mattino di Padova dicevi lo spazio pubblico non esiste se non come luogo ideale di incontro e allo stesso modo la mia identità non esisterebbe se non ce ne fosse un'altra diversa. Incontrarsi e conoscersi è l'inizio di ogni esperienza positiva. Ma in questo momento storico così delicato per l'Europa non è un po' ingenuo pensare che un testimone, un io che vive e i legami personali che gli intreccia possono avere anche un'incidenza nella nostra epoca? Te lo chiediamo consapevole che conosci bene il pensiero di Don Caron e in un certo senso incarni il metodo di cui egli parla. Infatti l'impensabile amicizia accaduta con te e poi ha coinvolto molti altri in una vicinanza sorprendente tra cristiani e musulmani è proprio citata da Caron nel libro come esempio emblematico del valore culturale di un'amicizia. ma come ha potuto assumere un valore pubblico quanto è accaduto a te e chi ti ha incontrato? Grazie. Buonasera a tutti all'inizio voglio chiedere le scusa se faccio orrore nell'italiano e anche voglio ringraziare Samir e Andrea Pen anche per questo invito e soprattutto anche per questa domanda perché parlando su questo libro devo mettere la mia persona è una cosa molto molto personale per me parlare su questo libro come musulmano che è vissuto e vesto è stato ferito anche dalla presenza di questa bellezza disarmata e dall'assenza di questa bellezza disarmata l'esperienza che abbiamo fatto nel nostro paese affronti il tema di questo libro è veramente mi fa sentire il dovere non di fare una lettura accademica o intellettuale ma fare una testimonianza una testimonianza di quello che ho visto con i miei occhi ho vissuto sulla mia pelle io non voglio entrare di questa banalità sull'islam nella media sull'islam come stereotipi perché c'è tante cose veramente non voglio perdere tempo parlare su l'islam è una grande traduzione una traduzione di un miliardo cinquecento milioni di persone che sempre vengono scontate ridotti e basta dire che questo islam ha contributo alla umanità alla civiltà occidentale le cose più grandi anche più piccole ma più grandi come il zero pensiamo sul zero arabo non possiamo avere niente di questa tecnologia oggi senza il zero arabo islamico non possiamo parlare sulla medicina sulla filosofia la filosofia greca la ragione greca che è stato salvato dei musulmani come avverroè non voglio entrare e parlare su questo sono musulmano orgoglioso di mia traduzione non solo perché sono musulmano ma perché anche veramente credo che ancora sta offrendo grandi cose per umanità così io non nego la crisi dell'eslam oggi ma non è questi versetti nel corano che chiamano a uccidere l'altre perché sono letti fuori il loro contesto non è la povertà non è l'ignoranza non è tutti questi stereotipi che stanno girando nella media oggi ma dove le crisi e io per spiegare questo crisi devo raccontare una storia che è una storia vera non è una barzelletta c'era questo ragazzo giovane musulmano molto religioso che quasi una settimana dopo l'uscita dell'iphone 6 ha comprato uno che significa è molto ricco come tutti noi oggi quando compriamo una cosa di queste tecnologie noi passiamo la maggior parte del nostro tempo accompagnati di queste cose di tecnologie che non ha una identità come il cellulare quando qualcuno compra un cellulare la prima cosa che fa è personalizzare questo cellulare così questo ragazzo comprato l'iphone 6 ha cominciato a personalizzare il suo cellulare come un ragazzo religioso la prima cosa che ha fatto era scaricare il corano intero sul cellulare l'internet è molto molto lento in egetto così lo scarica a prendere lunghissimo tempo e mentre scaricare il corano è venuto il bisogno più banale più essenziale dell'uomo è andare al bagno così vado al bagno no aspetto a scaricare non perdo tutto quello che ho fatto andare non andare ok aspetto passa il tempo lentamente il bisogno di andare al bagno e cresce e aspetta aspetta dopo un tempo lunghissimo finita la scarica lui è cominciato a correre ma sulla soglia del bagno è fermato posso entrare al bagno con il cellulare pieno di parole sacre di Dio posso senturare il bagno con il corano non offendere il corano così è una dramma perché a questo momento con questo bisogno non può entrare è doloroso questo conflitto è come un ragazzo per noi forse sembra una cosa drammatica che cosa ha fatto ma lui per lui era semplice perché come un ragazzo molto moderno diciamo ha mandato una domanda a una di pagine di fatua che è un giudizio giuristico diciamo sulla fatta di vita quotidiana da parte di un ma ha mandato per chiedere una fatua di una di queste pagine di facebook questa storia rappresenta benissimo la crisi dell'islam oggi questo ragazzo non è povero non è onorante non è isolato a tutti strumenti di essere comunicato con il mondo non è niente di queste cose questo ragazzo non può fare un giudizio sulle cose più banali della sua vita quotidiana non può decedere entrare nel bagno o no questo esattamente è la crisi dell'islam oggi questa incapacità di fare un giudizio sulle cose che viviamo nella nostra vita quotidiana non è la mancanza della ragione nell'islam noi pensiamo che noi musulmani abbiamo allargato la ragione alla grande più di religione prima di noi non pensiamo così ma non è la mancanza della ragione è soprattutto la mancanza della persona di un uomo che ha perso il dovere di ragionare la sua vita quotidiana che ha dedicato questo dovere a un altro a un imam che deve pensare per noi io non posso dire che non c'è ragione nell'islam perché sono studioso dell'islam e so benissimo il contributo contumbrano dell'islam su questo tema ma non è la mancanza della ragione è la mancanza della persona perché noi abbiamo denunciato questo dovere di ragionare la nostra vita quotidiana questa è la crisi dell'islam oggi nell'islam nel mondo contumbrano io posso dire che c'è due diversi tipi di religiosità il primo è centrato sul valore della bellezza tutti i valori ma il centro è la bellezza e l'altro al centro è la purezza e per fare chiaro la differenza fra due tipi come uno che ha una camicia bianca il primo tipo centrato sulla bellezza se guarda questa camicia bianca viene il desiderio di colorare la sua camicia ma l'altro il secondo tipo quando guardare i colori viene la paura di sporcare la sua camicia noi per esempio in Egitto non c'è una pratica religiosa senza una forma di bellezza leggere il Corano è un'arte musicale scrivere il Corano è un'arte callografia araba famosa viene il Ramadan come qui in Italia tutte strade sono con carte colorate con luce il pellegrinaggio quando qualcuno va al pellegrinaggio tutti vanno a disegnare la sua casa così non c'è una pratica religiosa senza una forma di bellezza e senza paura perché quando la bellezza è il centro l'altro valore che risponde a questo è il perdono perché la bellezza è un'avventura e nell'avventura tu non sai ma siamo sicuri perché c'è il perdono nel secondo tipo per la purezza per essere sempre puro c'è bisogno della legge perché solo le leggi solo la sharia può tenere noi puri e così questo dialettico in ogni società continua ma in un certo momento nella storia quando la persona è assenta la sharia la religione diventa più importante della persona e quando una religione diventa più importante della persona non è più una religione è una ideologia è una ideologia è una ideologia per questo è facile che uno morire per la religione o cedere per la religione perché perché la religione è più importante della persona se posso parlare su una crisi vera nel mondo arabo islamico oggi non è l'islam non è il corano ma questa certa esperienza religiosa non è l'assenza della laicità non è l'assenza della modernità perché presenta da due secoli in Egitto c'è modernità la struttura della società è completamente moderna il parlamento l'università il sistema sanitario tutto quello che c'è qui c'è anche al Cairo ma una forma che diventa un prigione di un traduzione grande questa è la crisi dell'islam oggi un traduzione grande imprigionato in una forma fessa chiusa ma perché forma fessa chiusa perché la persona non conta oggi perché è assente perché come questo ragazzo non può decidere se entrare nel bagno o no e la crisi dell'islam oggi è questo e cercare l'imam per rispondere a tutti i miei desideri e bisogni bisogni ma qui nel mondo occidentale la situazione non è meglio se mi permettete di dire così perché anche qui la persona è assenta qui la libertà è un valore sacro tutti parlano sulla libertà la libertà è come come l'imperatore giapponese dopo la seconda guerra mondiale se vedi che Hirohito l'imperatore giapponese era un dio ma dopo la seconda guerra mondiale dopo hanno perso tutto è rimasto un dio rimasto sacro ma le giapponesi hanno chiamato lui il sacro nulla e la libertà oggi nel mondo occidentale rappresenta questo sacro nulla mi scusate se dico questo ma pensiamo tutti noi perché credo nella libertà cerchiamo di rispondere a questa domanda perché credo nella libertà perché difendo la libertà secondo me la risposta è una frase che ha repitato tantissimo il Papa Francesco celebrando cento anni della prima guerra mondiale quando ha repitato questo che ha detto Caino a me che importa parliamo sull'integrazione musulmani oggi vivono in Europa in un ghetto in una società parallela possono fare tutto quello che vogliono fare finché sono invisibili non c'è problema sapete perché? perché la libertà oggi è a me che importa vivono muoiono mangiano non mangiano dormono a me che importa il fondo della libertà oggi non è l'amore all'altro come proporre questo libro non è che io lo amo per questo difendo la sua libertà e questa libertà ripresenta un grande civiltà che è la civiltà occidentale ma che diventa una forma svuotata dal significato oggi se mi permettete in tutte le discipline scientifiche abbiamo questa parola post post colonialismo post industrialismo post modernismo post 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 ogni cosa ma che significa post significa che noi oggi non possiamo generare un significato esattamente come questo ragazzo davanti al bagno non possiamo generare un significato della nostra vita perché siamo assenti come persone non solo questo io posso andare avanti il passo più grande che ha fatto umanità nel mondo contemporaneo è il passo che ha fatto dalla conoscenza a informazione viviamo l'epoca di informazioni sì ma che cosa è l'informazione l'informazione è la conoscenza ma senza la persona senza l'esperienza umana tutti i testi legali oggi in Europa non parlano sulla persona parlano sull'individuo che cosa è l'individuo l'individuo è una persona senza rapporti senza relazioni con l'altro che significa una cosa che non esiste esiste non esiste uno che vive totalmente vive totalmente isolato dall'altro così tutti i testi di legge oggi parlano su qualcosa che non esiste perché non esiste l'individuo esiste la persona oggi anche grandi domande come per esempio la famiglia c'è tanti che vogliono difendere i diritti e altri che vogliono difendere la famiglia usando lo stesso corrente culturale dominante tutti sono uguali tutti e due sono uguali perché perché io difendo la famiglia mentre dico io ho un bambino e non dico io sono un padre perché perché abbiamo fatto questo anche passato da essere a esistere l'uomo è esistere il microfono è esistere questa aula è esistere ma qualcuno può dire io sono quando c'è un altro io sono padre e non rapporto con mia figlia figlio e non rapporto con mia madre fratello e non rapporto con mia sorella marito e non rapporto con mia moglie io sono perché c'è sei perché c'è un altro e così oggi non possiamo dire che la persona è presente oggi e questo è il terzo punto per essere giustamente nel tempo come rispondere il libro a questo che proposta fa questo libro a questa assenza della persona anche dico un'altra storia di un ragazzo all'università cattolica che ha avuto un'amica che fanno tutte le cose insieme mangiano insieme studiano insieme vanno al cinema insieme fanno tutto insieme un giorno questa ragazza è andata a lui a questo studente religioso disturbata disturbata e ha detto senti io non posso continuare questa amicizia perché non posso continuare a nascondere la cosa più importante nella mia vita lui ha detto ma che cosa che succede lei ha detto io sono lesbica aspettando che lui sarà arrabbiato o forse sentire la simpatia per lei perché è malata ma lui ha fatto una domanda ha detto a lei ma sei solo questo veramente commivente sei solo questo c'è questo proverbio bellissimo che dice l'amore è cieco diciamo questo proverbio per dire quando qualcuno è innamorato non può vedere i difetti nell'amato ma non è questo il significato del proverbio l'amore è discernimento perché quando qualcuno ama ha questa capacità di vedere oltre i difetti vedere una grande persona la risposta che è presente questo libro io non faccio tutte le citazioni ma è veramente molto profonda e per tutti perché per tutti perché pensiamo qui che Don Caron qui sappiamo tutto che presidente di CL così un leader che scrive un libro dobbiamo seguirlo ma io leggendo questo libro è capito che nessuno leggere questo libro può dire sono carroniano questa è una falsità perché questo libro contro l'esistenza di questa parola carroniano perché lui in questo libro continua a chiamare ognuno non di essere parte di una cosa più grande di noi ma chiama ognuno di mettere il mondo come parte della sua esperienza personale quello che ha detto Don Parades all'introduzione del libro personalizzazione della fede questo che manca la civiltà occidentale oggi e manca anche la civiltà islamica oggi la presenza della persona che è più importante della religione perché senza la persona la religione non esiste è una teoria astratta che non è presente e io personalmente è stato colpito quando ho incontrato uno che mi ha fatto vedere il bello nella mia esperienza religiosa come questo ragazzo del cattolico ha avuto la capacità di trovare il bene nell'altro che è un tema cruciale nell'ebro sei un bene per me come un giovane studioso era per me guardato tutti questi preti cristiani che vengono a studiare con simpatia perché poverini lasciano il mondo intero e fanno tutta la vita chiusi e non vivono perché hanno questa mitologia nel loro veramente questa era la mia posizione io non ho incontrato non è affascinante incontrare un cristiano non è affascinante incontrare un occidentale io personalmente quello che ho incontrato è una persona contro lo stereotipo di occidentale nel nostro paese a noi un italiano significa un uomo elegante mangia bene bere buone vino sempre con belle donne questo ragazzo che ho incontrato era un memore sdomene che è il contrario di tutto ma vestire male non mangia la carne non bere il vino non ha una donna per carità era il contrario di tutto questo non era non c'era nessun fascino il cristianesimo c'è in Egitto prima in Italia tre secoli io posso dire tranquillamente che il primo popolo cristiano era il popolo egiziano così non è non è queste cose che che fa un musulmano affascinato di un'esperienza non era quello che 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 lui offre come religioni come cultura era uno sguardo uno sguardo all'altro in questo momento ho capito che quando qualcuno è veramente religioso è veramente certo che c'è un Dio presente lui va a ricercare questo Dio in ogni cuore anche in un cuore di un musulmano il mistero la parola che mi colpisce tanto nella traduzione cristiana il mistero perché mistero perché una chiamata a ognuno di noi di scoprire di più di Dio di contribuire di più alla conoscenza umana di Dio siamo creati unici unione unico irripetabile perché perché ha capacità di dare una cosa a noi il Papa Francesco il Papa Benedetto ha una frase bellissima ha detto c'è due tipi di rapporto con la verità quelli che possedono la verità e quelli che sono bessuduti della verità quelli che possedono la verità fanno la scelta una volta vita e basta io ho scelto ho incontrato Gesù perché io incontro tante persone che ho incontrato Gesù con affetto ho incontrato Gesù e punto fatto la scelta è giusto andiamo avanti ma quelli che sono posseduti della verità la scelta è una sfida quotidiana una cosa che facciamo ogni giorno sveglio e cercare di riscegliere di nuovo essere musulmano e essere cristiano essere ebraico e essere qualsiasi cosa che dà significato di questo mondo svuoto della persona una sfida quotidiana e non è nell'estraordinario perché come dice anche il Papa Francesco la santità non è l'estraordinario la santità è l'ordinario fatto con amore è straordinario è l'amore al fondo di tutte queste cose quindi lo spazio pubblico oggi pensiamo che questo spazio pubblico è uno spazio fisico e per essere giusti con tutti musulmani cristiani eprei tutti i tipi di pensieri deve essere senza identità bianco ma questo è un grave errore perché pubblico la parola pubblico non significa non significa per tutti la parola pubblico significa da tutti significa uno spazio dove ognuno può contribuire alla umanità questo è il vero significato possiamo immaginare uno spazio pubblico senza l'altri e può essere pubblico se non ci sono l'altri lo spazio pubblico è l'altri e per questo serve un incontro e serve un'Europa che fa questo spazio come dice il libro di incontro abbiamo lasciato questo ragazzo davanti sulla soglia del bagno e ha ricevuto la risposta dell'imam e l'imam ha chiesto lui ma caro per caso conoscere per la memoria alcuni versetti nel corano il ragazzo è religioso ha detto certo e l'imam ha detto per favore lasciare assieme a tuo cellulare tua testa fuori il bagno esattamente un corpo senza testa senza cuore in un bagno e siamo noi nello spazio pubblico senza nostra identità senza la presenza della nostra persona che è l'unico spazio che può testimoniare e mostrare la presenza di Deio nel nostro mondo grazie Buonasera a tutti sono veramente contento di poter condividere con tutti questa questa serata ricca di riflessioni come i due amici che mi hanno preceduto hanno già riempito già sarebbe abbastanza per poter andare a casa contenti con quello che abbiamo sentito ma voglio rispondere anche alle provocazioni alle domande che loro hanno lasciato perché diceva il professor Luzzato citando Papa Francesco che l'educazione questa inquietudine che desidererebbe che ci fosse in ogni persona in ogni ragazzo e lui diceva che a volte ha percepito nel nel libro come una insistenza a volte un po' eccessiva su come il disorientamento la difficoltà che ci troviamo in questa situazione io penso che il fatto di parlare soltanto di emergente educativa come una frase che definisce sinteticamente la sfida davanti alla quale stiamo dice della difficoltà che abbiamo di di fronte all'educazione forse sempre è stata così sempre c'è stata una sfida educare ma penso che in questo momento ha dei connotati e delle difficoltà particolarmente visibili perché come ha documentato Wail durante il suo intervento quello che vediamo oggi mancare è quel io della persona che facciamo fatica a trovare per questo in tante occasioni facendo tesoro dell'esempio che lui diceva del cellulare del ragazzo una incapacità di giudizio questo vuol dire che e questo tante persone lo possono testimoniare il fatto che una capacità di giudizio incapacità di giudizio vuol dire un'incapacità di orientarsi di distinguere che cosa vale la pena che cosa no che cosa può essere utile che cosa può essere interessante per vivere e questo questa incapacità della ragione diceva il Noè per una mancanza di ragione perché la ragione è qualcosa che abbiamo tutti ma una mancanza della persona perché diceva lui è come se uno avesse scaricato la responsabilità sul imam chiamo al imam che mi risponda questa è una mi trattengo adesso c'è una abbastanza descrizione di questo e spunti per una descrizione di questa situazione nel libro già nel un rappresentante del nostro mondo occidentale l'aveva messo in evidenza come Dostoyevsky che tante volte gli uomini cerchiamo qualcuno su cui scaricare come la nostra responsabilità la nostra libertà può essere chiamando al imam o può essere chiamando allo psicologo o può essere chiamando a qualcun altro che mi risolva il problema e quindi ci troviamo come conseguenza di questo disorientati ma mi sembra che il fatto di aver come scomposto in certo modo la natura della persona avendo come dissolto la persona in tutte e una serie di fattori psicologici sociologici circunstanziali biologici per cui non c'è un mio che dica io che prenda la responsabilità perché sono i suoi antecedenti familiari o sociali che hanno impedito emergere come io o sono i suoi problemi psicologici che non possono assumersi questa responsabilità tutto questo ha come bloccato in certo modo tanti ai genitori come ai professori come ai educatori e l'aiutare a un io a emergere faccio un esempio banale che mi ha colpito della difficoltà che a volte hanno i genitori mi raccontava un professore di recente che una madre va da lui professore di filosofia e le dice guardi professore il mio figlio già ha bastanti problemi non le faccia più domande perché già le complica la vita il professore di filosofia ha come mestiere fare domande perché sono le domande per cui la filosofia si interessa alle domande fondamentali dell'uomo allora la mamma percepisce già questo come un ostacolo alla crescita dell'io come un ostacolo a che possa il professore dare una mano a sollevare il figlio di questa difficoltà e questo è un esempio banale che possiamo trovare in tante occasioni perché non trovando una persona che sfida l'io ma una persona che lo scarica della sua responsabilità lo rende sempre più come incapace di capire e quindi disorientato confuso si troviamo sempre di più davanti a questa situazione e un esempio di questo un test di questo è che tante volte davanti alla difficoltà come di tenere a vada i ragazzi si moltiplicano le regole come nel tentativo di metterli in ordine ricordo di recente un incontro sull'educazione dove un esponente di spico di una grande università ha passato un quarto d'ora descrivendo la importanza delle regole per l'università per come mettere un ordine ma è come se lui non ci fossimo davanti a un io a chi ancora si può rivolgere una proposta si può mettere davanti una bellezza che possa ridestare questo che Pavese chiamava il centro infiammato il punto infiammato dell'io dove un ragazzo o un adolescente possono essere risvegliati chi ha detto che un bambino si può stupire di meno davanti alla bellezza delle montagne chi ha detto che non ha capacità di stupore ricordo potrei raccontare tanti episodi ma uno mi ha colpito particolarmente perché come a volte facciamo incontri o momenti insieme in montagna invitando persone che vengono da altri paesi in un'occasione un professore brasiliano aveva invitato a fare una passaggiata vicino al Monte Bianco dall'altra parte del Monte Bianco per poter godere della bellezza del Monte Bianco insieme ad alcuni amici mozzambicani erano tutti lì a chiacchierare durante il passaggio durante la passeggiata e lui stava pensando adesso quando arriviamo le dico che vorrei mettersi in ordine fare silenzio perché così quando stiamo davanti a questo spettacolo possiamo godercelo quando sono arrivati prima che lui proferisse parole i ragazzi universitari davanti allo spettacolo del Monte Bianco sono rimasti zitti come attratti da questa bellezza malgrado questo come c'era un gruppo che era rimasto indietro e venivano ancora facendo rumore perché venivano chiacchierando e c'era comincia a fare lo stesso ragionamento adesso quando arrivino le dico che siano zitti che non disturbino perché gli altri sono arrivati e hanno reagito dello stesso modo la bellezza aveva un'attrazione che ha vinto sulla loro distrazione non erano solo un insieme di pezzi di un io scomposto ma c'era un punto infiammato che la bellezza ha attratto e ha colpito tanto che loro sono rimasti senza parole quel silenzio dei ragazzi era un silenzio pieno perché come quando uno appunto vede qualcosa di così assolutamente straordinario così assolutamente bello che uno rimane senza parole non è un silenzio vuoto un silenzio pieno che cattura tutta l'attenzione della persona e lì appare quasi misteriosamente che la persona come viene fuori davanti a questa bellezza e lì come se per il professore il dottore che accompagnava questi ragazzi ha percepito che cosa è un io che cosa è una persona che è persona non un individuo isolato ma che è persona in rapporto con qualcosa fuori di sé che è in grado di metterlo in rapporto tutto il contrario di un individualismo piatto dove non c'è nessun legame dove c'è questa assenza di legame invece lì in un'esperienza così semplice si vede come la libertà non è assenza di legame o questo sacro nulla di cui si parlava prima ma è il contrario è una sovrabbondanza che la si ha posto appunto senza parole come quando sentiamo una bellissima musica o incontriamo a una persona che ci attira così tanto che che appunto tutta la nostra persona emerge con tutto il suo fascino e questo è cruciale per il tema della libertà che si parlava prima perché noi abbiamo fatto un lungo cammino nella libertà da quando dall'inizio soprattutto dall'epoca moderna che il tentativo di affermare la libertà come valore assoluto ricordo sempre la famosa frase del mio coetaneo contemporaneo coetaneo Cervantes che il bene più prezioso che i dei hanno dato agli uomini la libertà malgrado tutta l'epoca moderna ha cominciato così in tante occasioni abbiamo pensato che la libertà era questa assenza di legami adesso si può far tutto nessuno si preoccupa diciamo che la morale non è proprio non ha nessuna trattiva come per poter costringere alla libertà ma ci siamo trovati con una situazione inaspettata è che è vero che la libertà è una cosa senza costrizione ma non basta questo perché si muove la libertà se tutto è uguale se non c'è capacità di giudizio se non c'è capacità di attrattiva se tutto è uguale e in fondo una cosa vale l'altra perché occorre muoversi ieri in un incontro che avevo fatto anche sul libro in un'altra città vicino a Milano si raccontava di un ragazzo che dice citava una frase del Papa in cui li invitava a no sprecare il tempo solo guardando dalla finestra la vita guardando dal balcone e questo ragazzo in un incontro con altri diceva io non voglio perdere la vita guardando solo dal balcone guardando i torri dagli spalti ma il problema è che occorre che che io possa vedere qualche belletta perché mi possa mettere nella mischia occorre che voi diceva gli altri mi testimoniate una belletta tale perché io possa scendere a giocarme la vita perché non mi piace rimanere solo come spettatore del vivere ma per coinvolgermi occorre una provocazione perché perché come ho osservato acutamente Don Giussani tutta questa capacità dell'io tutta questa esigenza di verità di bellezza di pienezza di di compimento ha bisogno di una provocazione perché senza questo l'io la libertà non si muove se noi lasciamo cadere una cosa senza nessun valore non ci neanche ci proviamo a a muoverci per riprenderla se ci cade qualcosa che ha un valore ci muoviamo subito per muoversi perché la libertà possa veramente mettersi in gioco occorre che abbia qualcosa per cui vale la pena muoversi adesso ci siamo scoperti che possiamo fare tutto ma non abbiamo una ragione perché vale la pena muoversi in tante occasioni per questo è quello che diceva prima del sacro nulla e questo nulla per cui non vale la pena allora lui diceva non possiamo generare un significato perché manca questo e lui per questo diceva insisteva sul valore della persona perché l'importante non è la religione ma la persona ma io vorrei interlocuire proprio su questo perché allora uno potrebbe dire ma perché vale la pena essere cristiano ebreo o musulmano se l'importante è la persona l'identità la differenza che cosa consiste perché vale la pena e non siamo tutti diciamo uguali cancelliamo tutte le religioni perché in fondo sono quello che importa essere persona e tutto il resto non serve perché noi dobbiamo per poter rispondere a che cosa fa emergere la persona dire ma come è possibile che la persona questo io individualistico questo io senza legami questo io che sta alla ricerca della libertà ma che ha bisogno di una provocazione adeguata può emergere può succedere può succedere una persona come qualcosa che lo lega a un altro perché mi sembra che qui è qui sta la chiave una chiave davanti alla quale stiamo tutti cioè ma davanti a una situazione di individualismo davanti a una situazione di mancanza di inquietudine davanti a una situazione di mancante di una ragione adeguata per muoversi per vivere per mettersi nella mischia per incominciare per ripartire che cosa di che cosa abbiamo bisogno e questo è un una questione che è trasversale possiamo essere atei agnostici cristiani musulmani ebrei mettiamo qualsiasi situazione qualsiasi identità e tutti abbiamo lo stesso problema davanti è un problema che riguarda tutti nella società moderna proprio per questo che stiamo descrivendo allora che cosa può muovere il centro dell'io si domandava Sant'Agostino che cosa può far sì che la persona questa possibilità che è l'io di diventare più se stesso più in grado di compiersi più in grado di ridestarsi con tutta l'inquietudine che ridesti la ragione la libertà l'affezione che ridesti tutto perché la vita non la possiamo perdere come dice Eliot vivendo perché quell'impetu con il che uno nasce esplode nell'adolescenza con tutte le domande con tutto il desiderio del vivere nel tempo non faccia tutta la parabola e finisca nello scetticismo che cosa occorre per non perdere la vita vivendo questa è la domanda che mi sembra che condividiamo tutto tutti e qui dove non qualsiasi realtà organizzazione associazione può rispondere in modo adeguato abbiamo come quando uno ha una malattia a un problema ma non tutti sanno rispondere adeguatamente al problema o perché non hanno fatto la diagnosi adeguata o perché avendo fatto non hanno trovato una medicina non propongono una strada che possa guarire la malattia che possa rispondere adeguatamente al problema allora la questione che cosa può rispondere come a questa sorta di passività a questa sorta di mancanza di una ragione adeguata per muoversi a che cosa può rispondere una situazione come tante volte ci troviamo noi già da quando ci alziamo al mattino perché vale la pena alzarsi al mattino perché vale la pena andare a lavorare o educare i figli un problema che ci riguarda tutti perché vale la pena aprirsi all'altro che viene da fuori perché vale la pena affrontare la diversità perché l'altro può diventare una possibilità per me che cosa mi può far interessare e qui è dove ciascuno di noi qualsiasi sia il posto che occupiamo nella società dobbiamo fare il proprio contributo e qui allora lo spazio pubblico può diventare veramente un spazio non vuoto ma un spazio aperto a delle possibilità a delle identità che possano mostrare la propria esperienza per vedere se c'è qualcuno che risponde con me possiamo vedere che ci piacerebbe almeno che si una persona cara a noi avessi una malattia trovasse un medico estupendo che possiese rispondere chi non desidererebbe questo qualsiasi sia la situazione in cui si trova io da parte mia e questo mi collego ha tutta una storia quello che a me sembra che è successo nella storia è successo con Abramo quando Dio è entrato nella storia chiamando un uomo è impressionante che se il mistero ha deciso di entrare nella storia per rispondere a una situazione che l'uomo non può rispondersi da se stesso perché perché non ha la capacità di ridestarsi a se stesso Dio entra nella storia con un metodo che è concertante ma chi di noi avrebbe pensato cambiare il mondo seguendo uno nessuno escommeterebbe neanche una lira per un metodo così invece la storia ha mostrato che da questa storia è nato un popolo da questa storia quando il verbo è diventato carne e si è compiuto la promessa di questa storia qualcuno che ha incontrato Gesù è successa una cosa apparentemente banale di questa che è diceva di questa storia di Tiocaram Benzakai dove uno potrebbe come rimandare perché occorreva rispondere io capisco che se se ancora il Messia non è arrivato occorre rispondere ma se fosse arrivato che cosa risponderebbe questo che dice può fare digiuno dice Gesù può fare digiuno quando il finanziato è presente allora nella storia è apparso uno che quando l'hanno incontrato si è ridestato in loro un fascino tale che hanno pensato che quello lì era quello che stavano aspettando e il Vangelo lo racconta con una semplicità disarmante due che vanno per curiosità ascoltare un profeta del tempo Giovanni Battista e sentono una frase quasi incomprensibile quello lì è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e cominciano a seguirle solo per una curiosità questi si rivolge a loro cosa cercate perché la vita è questa ricerca questa attesa che ci accomuna tutti l'altri le domanda ma dove abiti venite e vedete passano il pomeriggio con lui non si dice che cosa è successo sappiamo di che cosa è successo perché non hanno potuto evitare andare a trovarlo il giorno dopo noi che siamo familiari con questa con questo racconto quasi non ci impressiona lo lasciamo passare lì ma proviamo a pensare per un istante quante persone quante volte ci è capitato nella vita di aver incontrato una persona che abbiamo desiderato andare a trovarlo il giorno dopo e vedremo che non sono tante che cosa hanno trovato che cosa ha suscitato in loro che attrattiva hanno percepito che bellezza hanno incrociato che non hanno potuto evitare andare a trovare il giorno dopo il giorno dopo il giorno dopo e questo ha rivestato quell'umanità facendola sperimentare qualcosa che loro non sapevano prima mai abbiamo visto una cosa simile perché 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 con lui è entrato nella storia uno sguardo che parlava prima uno sguardo che le ha ridonato se stessi che le ha ridonato tutto il valore che hanno ma non perché le ha fatto una lezione di che cosa è l'uomo perché le ha reso reso uomini un autore cristiano dei primi secoli diceva quando ho incontrato Cristo mi sono scoperto uomo persona e questo sguardo che ha trovato Maria Magdalena anche lei non ha potuto evitare malgrado la sua vita precedente non hanno potuto evitare di andarle dietro e cercarlo giorno e notte e quando è morta non ha potuto restare lì a dormire perché le urgeva andare a portare i perfumi gli aromi e quando si è trovato con quell'uomo vivo che l'ha investito Maria che vibrazione con che vibrazione li ha chiamato Gesù a quella donna che non ha potuto evitare di avere un'esperienza di umanità talmente travolgente che non ha potuto dimenticarla se non succede questo nella vita capisco che la vita la perdiamo vivendo non perché facciamo delle cose sbagliate questo sarebbe nulla no che si perde nel nulla che si perde la vita sopravvivendo non è che facciamo neanche troppe stupidaggine no è che passa la vita senza lasciare traccia invece quando uno si incontra nel presente uno sguardo così persone così come diceva un testimone di una umanità così come a noi ci è capitato quando abbiamo incontrato Don Giussani allora uno capisce che razza di risposta adeguata al dramma che viviamo oggi perché senza questo si si sopravvive per questo Don Giussani dice la persona quello che noi siamo come struttura emerge come si risveglia davanti ai nostri occhi ci rendiamo conto perché cosa è la vita che intensità può accadere nella vita in un incontro umano e questo lo sappiamo benissimo perché facciamo l'esempio più vicino che può fare dell'incontro come uno quando si innamora quella esperienza di esaltazione dell'umano che l'altro introduce nella vita non lo posso introdurre nessuna regola nessuna istruzione per l'uso nessun sentimentalismo lo produce solo l'incontro con qualcuno che esalta la propria humanità Dio volendo usare un metodo che potesse essere capito da tutti a portata di mano di tutti fatto uomo perché è il linguaggio che noi capiamo perché è soltanto nell'incontro umano che la vita si esalta e allora uno scopre ah finalmente capisco perché vale la pena essere nati quella ricerca di significato solo entra nella vita in un incontro quando qualcuno mi svela me stesso perché vale la pena vivere e questa è la la possibilità che l'espazio dell'Europa che l'espazio del mondo possa diventare occasione di un incontro che è quello che tutti aspettiamo un incontro che riempia talmente la vita di quel fascino di quella bellezza che tutti aspettiamo il problema è ma noi crediamo ancora nella bellezza disarmata della fede buonasera non mi avventuro che penso che la sfida che è stata lanciata questa sera è la testimonianza che la vita è come questo cammino che può essere vissuto pieni di questa attesa e questa ricerca a volte a volte ci sono le spirali che sono delle prove delle provocazioni che che ci chiedono che cosa occorre per non perdere la vita vivendo e allora penso che questa sera abbiamo visto che che cosa fascina un'esperienza e che è vedere qualcuno che non vive la vita guardandola dalla finestra e così uno può iniziare anche lui a desiderare uno sguardo così una possibilità di intensità della vita così allora chiudo con questa immagine che Don Cugliani prende spesso che è un'immagine di profetti che dice tu vedi un tronco secco un enorme tronco secco come tante volte sono le nostre giornate e nel tronco secco vedi un germoglio tu puoi dire è tutto secco quasi nel quasi c'è tutto perché il germoglio c'è tutto il tronco secco che è imparagonalmente più grande del germoglio fa fuori il germoglio no allora tu puoi decidere di seguire quel germoglio io penso che l'augurio più grande che ci possiamo fare è lì ognuno dov'è ognuno nel suo cammino poter cercare desiderare offrire quel germoglio che fa ridestare il punto infiammato dell'io per questo ringrazio i relatori e ringrazio anche tutti quelli che hanno riposito possibile questo evento a partire anche dai tanti volontari che gratuitamente si sono messi a disposizione voglio chiudere solo con alcuni avvisi per chi desiderasse conoscere di più l'esperienza del movimento di comunione e liberazione all'uscita troverete un banchetto dove è possibile ritirare gratuitamente la rivista tracce mensile internazionale del nostro movimento nelle sue pagine trovano spazio articoli e reportage da varie zone del mondo il movimento infatti è presente in circa 90 nazioni e nei 5 continenti servizi e inchieste su temi culturali politici ed ecclesiali racconti di esperienze sociali e caritative e testi nati dal carisma del movimento in particolare nel tracce di questo mese troverete anche allegato il DVD riconoscere le Cristo che è una lezione svolta da Don Luigi Giussani durante gli esercizi spirituali degli universitari di comunione e liberazione del 94 inoltre per chi fosse interessato a continuare l'incontro può lasciare la propria email sempre al medesimo banchetto e già vi segnaliamo due incontri il primo è l'incontro di scuola di comunità che è il principale strumento educativo di sviluppo della nostra esperienza in questa scuola di comunità in particolare ci sarà un collegamento anche audio video che è tenuto da Cuglian Caron mensilmente e si svolgerà mercoledì 16 marzo alle 21 presso il Teatro Tombosco in via San Camilo dell'Ellis il secondo è la presentazione del libro Il nome di Dio e misericordia l'ultimo libro intervista a Papa Francesco realizzato dal vaticanista Andrea Tornielli il volume sarà presentato a Padova sabato 5 marzo alle 17.30 in sala Cardinal Calegari all'interno di un incontro organizzato dal progetto Un attimo di pace in collaborazione con l'associazione Rosmini ad entrare nei contenuti del libro affrontando le sommature della misericordia saranno l'autore e il filosofo Umberto Curi ci sarà poi anche un testimone che ha vissuto in prima persona il perdono e la misericordia e le videotestimonianze sul proprio sentire misericordia di quattro detenuti Carlo, Alessio, Claudio e Giovanni raccolte dall'equipe di Un attimo di pace infine sempre all'uscita troverete un banco libri dove è possibile acquistare il libro La bellezza disarmata al prezzo speciale di 15 euro e due banchetti dove è possibile conoscere meglio l'associazione culturale Rosmini e acquistare dei cd musicali del maestro Marcello Sesena che ringraziamo ancora buonanotte a tutti